buonasera a tutti eccoci qua con il nostro consueto video serale allora dopo che mi è stato richiesto da un bel po di tempo di occuparmi di giulia e aver rinviato per qualche giorno perché non mi sentivo pronto questa sera cercherò di fare un video che sia un minimo esotivo per ricostruire un po la storia editoriale di giulia allora premettiamo che io possiedo l'intera collezione di giulia l'ho acquistata in blocco circa sette otto anni fa per diciamo in quanto la mia compagna era attirata dalla lettura insomma della possibile lettura di una serie e quindi acquistammo giulia di cui conoscevo il numero uno che l'avevo letto a suo tempo quando uscì ma poi allora non non ero interessato a collezionare altre cose perché erano i miei primi anni di collezionismo ero ragazzino quindi compravo assento di land dog e poco altro le finanze non permetteva niente di più così ho comprato questo giulia ha cominciato a leggere la mia compagna che ne ha letto una cinquantina i numeri e poi si è fermata diciamo io nel frattempo ho recuperato tutta una serie di numeri e di serie mancanti perché mi ero fermato per qualche anno nelle mie collezioni e quindi ho recuperato dei numeri vecchi che mi mancavano di land dog martin mister e così via e quindi progressivamente mi sono messo a leggere tutto e quindi adesso mi toccava occuparmi diciamo leggere per bene giulia quindi premetto che quello che di cui andremo a parlare sarà molto ricostruito da dai racconti da roba che ho letto perché conosco chiaramente il personaggio ma non conosco per bene la pubblicazione cioè non avendo letta tutta però cercherò di dare una mano e tra l'altro già da questo mese comincerò a recensire il numero in edicola che vediamo dove se lo trovo questo di qua quindi da questo mese comincerò a recensire anche giulia perché comprando la collezione e volendolo cominciare a leggere assiduamente è giusto anche che ne parli perché è una serie che merita allora giulia è questa ragazza si chiama giulia kendall ed è stata creata nel 1998 da giancarlo berardi infatti il primo numero dell'ottobre 1998 le copertine sono di di marco soldi dal numero 1 al numero 157 che è questa e dal numero 158 all'attuale 290 che è questo che vi ho già fatto vedere le copertine quindi sono di di cristiano spadoni allora dunque cosa c'è da dire su giulia cominciamo allora giulia è una criminologa le fattezze sono quelle di audrey airburn che è una elettrice preferita di giancarlo berardi che ha creato questo personaggio quindi lo ha presentato alla sergio bonelli nella seconda metà degli anni 90 un po perché aveva intenzione di rimettersi in discussione dopo la chiusura della serie di di ken parker che aveva creato con i vuoi milazzo e un po proprio su richiesta stessa dei dei fans perché come sappiamo milazzo aveva creato appunto con cioè berardi aveva creato appunto con milazzo ken parker che è stato un fumetto fondamentale nella storia delle comic del coi di comics italiani magari ne parleremo anzi non magari ne parleremo nelle prossime settimane ma in maniera un po particolare lo scoprirete seguendo il canale ha avuto chi lo sa una pubblicazione un po particolare un po irregolare e a un certo punto a metà degli anni 90 ha chiuso e quindi berardi si è voluto rimettere in discussione con un nuovo personaggio in questo caso un giallo pare che lui avesse presentato anche altri personaggi a sergio bonelli che sono stati che sono stati bocciati che furono bocciati allora a un certo punto questo personaggio allora qual è la caratteristica giulia innanzitutto è una donna cosa che appunto nel periodo non era molto consueto perché ricordiamoci che è uscito nell'ottobre 1998 quindi era già un personaggio femminile se si può escludere l'ex weaver uscita tre anni prima manata alla costola di nick rider è belle bronco il personaggio belle bronco una miniserie dei primissimi anni 80 sostanzialmente nella bonelli non vi sono mai state protagonisti femminili invece in questo caso berardi presentò una donna che pur mantenendo la sua femminilità le caratteristiche tipiche di una donna è comunque è un personaggio molto particolare molto a modo suo diciamo forte perché allora giulia come dicevamo è una criminologa è un fumetto giallo ha le caratteristiche di avere una una serialità mensile un maggior numero di pagine 132 perché berardi riteneva che è un racconto un po più lungo rispetto alle 94 tavole classiche giovasse al appunto al fumetto e giulia racconta i suoi casi perché appunto lei è una criminologa che lavora all'università della sua città perché lei vive praticamente facci anzi una descrizione aiutandomi anche col giornale di sergio bonelli questa splendida pubblicazione che ormai non esiste più e lei praticamente eccola qua qui c'è berardi lei praticamente vive in una città chiamata garden city che si trova in una immaginale città di new jersey lavora all'università quindi è una insegna criminologia all'università ma fa anche da consulente alla polizia alle forze dell'ordine in qualità di criminologa intorno a lei ruoteranno tutta una serie di personaggi tra cui questo leo irving e web oltre a emily che saranno a vario titolo dei personaggi con cui lei lavorerà web è un detective piuttosto rude con cui ha un rapporto di amore e odio diciamo di chiamiamolo così leo è un suo amico che è un investigatore privato che spesso interverrà ad aiutarla e sarà diciamo come dire non molto coinvoluto dalla polizia irving è un è un sergente della polizia corpulento che conosce julia già dai tempi dell'università poi vi è il gatto tony che è il suo gatto che apparirà frequentemente emily che è la sua governante nera che è un po' ricalca le immagini di woody gulberg gulberg da comunque insomma come si chiama l'attrice di sister act o anche di ghost e poi un'altra caratteristica diciamo il suo mezzo di trasporto ossia la morgane questa vecchia auto inglese che spesso che sovente la lascia a piedi e poi vi saranno anche altri personaggi all'interno delle forze dell'ordine ma soprattutto vi saranno una serie di nemici tra cui non possiamo non ricordare la più diciamo la la più acerrima che è la sua che in certo qual modo è la sua nemesi che si chiama mirna che apparirà già dal primo numero perché il primo numero è in realtà una storia che ha che continua in altre due puntate e mirna non vi sto a raccontare tutti i particolari è una donna che è una serial killer che apparirà spesso in vari numeri fino a tempi piuttosto recenti ricordiamoci che adesso giulia è arrivata al numero 290 e avrà diciamo sarà una sorta di nemesi di giulia ma avrà anche un rapporto di amore malato patologico nei suoi confronti perché lei è omosessuale e lesbica insomma sarà presente in numerosi episodi ma sarà nominata o comunque la sua presenza si senterà anche negli episodi in cui lei effettivamente non apparirà questa è mirna si vede qui allora quali sono le caratteristiche di giulia quindi abbiamo un po' accennato il suo mondo questo immaginario garden city in cui lei si trova a operare all'inizio della prima avventura lei diciamo racconta attraverso il suo diario perché questa è una cosa importante lei utilizza come mezzo di per raccontare i suoi fatti il suo diario infatti se lo vedete qui se vedete qui questi sono è come se fosse la scritta no questa no questa è una canzone niente una canzone ecco qui questo è il diario quindi diciamo i testi scritti da giulia attraverso il quale attraverso i quali lei racconta gli avvenimenti quindi sostanzialmente utilizza il suo diario che aveva iniziato a utilizzare l'adolescente per poi come molte ragazze o comunque molti adolescenti fanno per poi utilizzarlo anche come spediente sia narrativo ma come mezzo anche per svolgere le sue indagini perché lei appunto è una criminologa lavora all'università di questo immaginario garden city e attraverso questi collaborano questi personaggi all'interno della polizia per risolvere una serie di casi secondo uno schema tipicamente americano infatti se andate a leggere il numero 1 sembra di trovarsi all'interno di un racconto seriale di una fiction televisiva poliziesca statunitense ricordiamoci che il numero 1 è del 1998 ha da poco compiuto 24 anni giulia il mese scorso lei non si occuperà solamente di Mirna che sarà il suo avversario principale che ritornerà spesso ma si occuperà appunto di indagare su tutta una serie di casi e a volte si sposterà anche da garden city e dall'america la sua governante è Emilio un ex pantera nera quindi una combattente per i diritti dei neri è molto materna e molto rude nei suoi confronti Giulia viene da una famiglia ricca ma rimane orfana piuttosto presto per tutta una serie di questioni e cresce quindi con la nonna e ha una sorella più giovane che fa la modella infatti poi sarà anche coinvolta in alcune situazioni e gli altri personaggi ritorneranno intorno a lei appunto nella risoluzione dei casi Giulia come dicevamo è arrivata al numero 290 in mensile ha una serialità quindi piuttosto lunga e quindi un personaggio che evidentemente ha riscosso successo e nel 2005 quando Nick Rider è terminato ha sostituito il nostro nell'almanacco del giallo infatti questo è il primo numero e fino al 2014 vedete sono ancora imbustati perché questi non li ho ancora letti fino al 2014 Giulia andrà a occupare le pagine dell'almanacco del giallo in cui vi saranno dei casi che riguarderanno lei da giovane quindi quando era studentessa quindi prima che si laureasse in criminologia una volta terminato nel 2015 nel 2014 l'almanacco del giallo nel 2015 comincerà a uscire periodicamente lo speciale di Giulia uno l'anno alcuni dei quali saranno anche a colori e anche qui come vedete troveremo una Giulia giovane quindi saranno dei casi relativi a Giulia studentessa insomma prima che terminasse l'università e ne sono usciti faccio vedere le copertine almeno di questi ne sono usciti sette questo è il secondo il terzo il quarto vedete a colori il quinto il sesto e il settimo speciale questo fino all'anno 2021 tutto a colori quest'anno non è uscito lo speciale di Giulia però al posto di esso quest'estate è arrivato un albo bis perché come sapete da un paio di anni a questa parte la Bonelli nel periodo estivo pubblica degli albi bis e quindi in questo caso l'albo bis va a sostituire praticamente lo speciale non è a colori è un semplice albo però anche questo riguarda la giovane Giulia quindi sostanzialmente andato a sostituire il colore dell'albo diciamo la Bonelli a mio parere per risparmiare anche sulla questione dei colori ha preso d'officio in una fava creando un albo bis che andasse a sostituire lo speciale e che non fosse a colori quindi era lo scamotage diciamo per non utilizzare il colore a proposito di colori il numero 100 di Giulia chiaramente a colori anche questo non l'ho ancora letto così come il numero 200 perché come sapete siamo arrivati al numero 290 e questo è il numero 200 con i personaggi i amici principali di Giulia incluso il gatto e di questo esiste una variant che ho acquistato sul sito della Bonelli con una copertina unica sostanzialmente davanti e dietro un po' come i vecchi topolino niente allora la serie di Giulia è una serie diciamo è molto interessante perché permette diciamo di introdurre nel mondo della Bonelli ricordiamoci che è nato 24 anni fa una tipologia di racconto in stile poliziesco faccio vedere intanto un po' di copertine di questi numeri perché chiaramente non posso prenderli tutti vedete questi sono i speciali i bis di quest'anno chiaramente non possono dicevamo Giulia ha introdotto una tipologia di giallo di indagine che in Italia nel fumetto italiano seriale almeno per quanto riguarda la Bonelli non esisteva perché Nick Rider a cui si è andato prima ad affiancare e poi a sostituire era una tipologia di diciamo di giallo classico c'era un classico poliziesco americano ambientato nel a New York in cui vi era questo commissariato di polizia in cui si andava a indagare qui invece siamo non dal punto di vista di una poliziotta ma dal punto di vista di una criminologa oltretutto non un uomo ma donna in un contesto anche piuttosto duro perché se andate a leggere gli episodi comunque sono piuttosto crudi sono episodi piuttosto violenti gli omicidi sono piuttosto efferati e quindi comunque è un fumetto particolare sembra di leggere appunto una la trama di un di una di una fiction di una serie televisiva americana di matrice poliziesca nel 1998 è una serie che ha riscosso successo un buon successo perché il fatto stesso che abbia continuato la pubblicazione del giallo una volta che Nick Rider è terminato perché potevano chiuderla come hanno fatto con molti altri almanacchi che poi abbia comunque uno speciale che quest'anno va bene non è più speciale ma è Albo Bis comunque ha una pubblicazione fuori serie e soprattutto la sua serialità che ormai si avvicina a grandi passi fra meno di un anno al 300 episodio porta comunque a considerare che Giulio è un fumetto che tutto sommato vende e continua a vendere e riscuote un certo successo chiaramente i numeri non sono quelli all'inizio ma non sono nessuno di questi numeri della Bonelli di 20 anni fa perché è così qualcuno critica che il personaggio sembrava che dovesse avere chissà quale evoluzione ma in realtà sostanzialmente non è cambiato grossomodo nulla in questi quasi 300 episodi in questi quasi 25 anni però questo è il solito dilemma delle serialità lasciare tutto uguale e quindi annoiare la gente o cambiare tutto e stravolgere e rischiare di perdere il pubblico o di o di sconcertarlo diciamo che la soluzione dovrebbe essere a mio parere una via di mezzo dove possibile o se è il caso quando i numeri non rispondono più o quando il si pensa di aver detto tutto bisognerebbe avere il coraggio di chiudere questo è la mia opinione non è riferita a Giulia nello specifico ma in generale comunque spero di aver dato qualche miglior informazione su Giulia perché come ribadisco non sono ferratissimo sull'argomento conosco il personaggio abbastanza bene perché ho letto una serie di cose ma non conosco bene la serie in sé prometto che recupererò il video mi sono sentito di farlo perché mi sembrava corretto ma adesso andrò ma a questi andrò a implementare molte cose a cominciare già dalla recensione dei numeri che usciranno in edicola che comincerò proprio con questo il 290 che ho acquistato qualche giorno fa e poi progressivamente recupererò gli arretrati e ogni tanto farò anche qualche recensione di qualche numero particolare che mi ha attirato Giulia di Giancarlo Berardi pubblicata mensilmente alla Sergio Bonnellitore dall'ottobre 1998 e ancora in essere vi saluto e vi rimando alla prossima recensione